Ciao ragazze, oggi ho deciso di fare un video un po' diverso, ovvero siccome sono a Milano per 5 giorni ho deciso di fare video di tutti i look che indosserò in questi 5 giorni quindi iniziamo subito con il primo look ho indossato questo primo look per una scena con gli amici ragazzi siamo in un momento di relax tra appuntamenti mi sono cambiata al volo, andiamo a fare una passeggiata nel parco Sempione che è bellissimo tuttasunale, vi faccio vedere il look che sto indossando adesso buongiorno bellezze, nuovo giorno a Milano qua un look tutto in rosa per iniziare la giornata, ve lo faccio vedere subito ragazzi siamo nel quartiere nuovo di Milano, quello dei Gratiscieli, il quartiere di Quarta Nuova siamo usciti per scattare un po' di foto e quindi vi faccio vedere il mio look con delle scathe mi piacciono tantissimo ragazzi un look casual da giorno per girare un po' a Milano in comodità ma con i miei nuovi pantaloni vinili che vi ho fatto vedere nel video shopping appuntamento di lavoro da Fondazione Prada prendiamo qua un caffè se non ci siete mai stati venite perché è spettacolare e vi faccio vedere il look che sto indossando questo pomeriggio e vi faccio vedere il video e vi faccio vedere i miei nuovi posti di un paese che partiano e vi faccio vedere i miei nuovi pazzi e anche i miei nuovi rifiutati a mei nuoviة